ultimamente scusi che ti interrompo ultimamente siamo arrivati al teatro di guerra dopo quello sanitario dopo tutti quelli che è elencato ma quello non è un teatro di guerra quello è un teatro della pace che ancora peggio perché in realtà il teatro di guerra qui noi rischiamo noi in realtà stiamo facendo la guerra economica perché quella lì viene fatta e tra l'altro partecipiamo contro di noi viene fatta la guerra economica sì esatto sia contro i russi che contro di noi cioè noi la facciamo contro i russi ma in realtà la stiamo facendo contro di noi che è una delle cose più incredibili perché è mancata completamente a tutti i livelli della società almeno quella televisiva quella che si vede chiaramente in queste nostre discussioni noi sì che siamo parte della società però non in quella ufficiale quindi quella che ha un impatto sui fatti del mondo nei sotterranei siamo nei sotterranei esatto e manca è stata mancata in quell'altra società una qualsiasi discussione nel merito su quella che sia la convenienza del paese perché tu quando fai una cosa dovresti avere chiara la convenienza cioè tu fai un investimento perché vuoi guadagnarci quello fai un'alleanza perché comoda per un altro motivo cioè qualsiasi se fai una guerra figurati una guerra una guerra è la la cosa peggiore da fare in generale cioè ogni paese che faccia una guerra e cioè dovrebbe evitare di farle ecco ci hanno parlato di pace in tutte le sas e poi quando entri a fare una guerra dovresti spiegare perché lo fai e soprattutto dovresti spiegare qual è il vantaggio nel farla dice guarda gli obiettivi se non altro noi facciamo questa guerra sì è un po insomma non è una bella cosa però poi dopo ci rubiamo tutto il petrolio e siamo ricchi che è quello che fanno gli americani magari invece noi cosa facciamo una guerra noi facciamo una guerra sì però però poi dopo dovete spegnere i condizionatori d'aria non avere più non ci sarà più da mangiare comunque è un buon affare lo stesso pagare 9 volte il gas sì ma no ma parte pagare 9 volte il gas non ci sarà il gas cioè c'è la migliore delle ipotesi esatto cioè per lo paghi 9 volte perché 9 persone su 10 magari non avranno più il gas gli altri le pagano quei pochi che se lo permettono le pagano 9 volte gli altri spengono spengono la calderina perché non possono permettersi oppure gliela tagliano gli tagliano il gas perché non pagano non pagano il per venderlo solo ai ricchi sì cioè i ricchi sono gli unici che riescono a pagarsi le bollette e allora hanno la corrente il gas gli altri gliela tagliano perché non se lo possono permettere e poi diventa ancora colpa loro che non è ma se è colpa tua che non guadagni abbastanza colpa tua che non hai risparmiato in realtà no sono quelli che hanno fatto una guerra per un obiettivo che è il contrario di quello dell'interesse generale è un obiettivo che è quello del della distruzione del tessuto economico nazionale quindi della distruzione proprio del benessere dei cittadini è l'alto tradimento a livello più alto che si possa immaginare ecco e queste cose auto cannibalismo sì auto cannibalismo sì perché poi alla fine la gente è costretta probabilmente a competere con la violenza alla fine per le risorse quando uno non c'è più da mangiare andrà a rubare ecco perché non credo che la gente poi se ne stia a morire di fama a casa soprattutto se deve sfamare dei bambini quindi è molto grave quello che si sta facendo proprio perché va a creare un futuro d'italia che ricorda quei film post apocalittici no no Grazie a tutti.